Rieccoci, seconda parte di Ci Siamo. A Salerno festeggiano non tanto per la vittoria di ieri in quella di Pavia, tra poco vedremo le immagini del Fortunati, ma perché caro Riccardo Guffanti a Salerno sono sbarcati gli americani con questo Joseph Cala, che nei giorni scorsi ha annunciato di aver acquistato la salernitana. Per lo meno diciamo Italo-americano. Italo-americano, va bene. Il cognome mi dà un po' l'idea che sia di casa nostra. Salerno-Stellestrische, insomma hanno la speranza di aggrapparsi al treno playoff. Grande risultato perché hanno giocato contro un Pavia, per quello che so io, perché oltretutto stamattina ho proprio parlato con il direttore Moreno Zocchi al telefono, mi ha parlato veramente di un'ottima prestazione fatta del Pavia. Quindi questo risultato della salernitana vale doppio. E doppio soprattutto perché in gol non c'è andato Dino Fava, il bomber per eccellenza di questa squadra, ma c'è andato un giovane, Montalto, che è un ragazzo che arriva purtroppo da delle stagioni sfortunate per degli infortuni seri, ha ripreso e ieri è ritornato al gol. Poi vedremo che è uno di quei ragazzi. Lo vediamo tra poco. Cresciuto nel settore giovanile del Messina, però lo vedremo. Tra pochissimo lo vedremo, la vedremo la scheda di Montalto. È un brutto K.O. invece, Bisana, per il Pavia di Gianluca Andrissi, in chiave play-out anche perché è arrivata la vittoria in contemporanea del Como, il caso contro Spezia e poi Buffanti ciderà come ha giocato il Como. Parlando del Pavia, Bisana? Sì, sì, il Pavia sono consapevoli comunque, lo erano già prima di questo scivolone interno, di dover lottare fino all'ultimo per salvarsi. Loro lo sanno e questa è una grande, la consapevolezza di dover lottare fino in fondo è un grande aiuto. Altre squadre magari non avvezze a questo tipo di situazioni, potrebbero pagare più duramente. Io sono sicuro, lo so per certo, Andrissi... Bello è il gol siglatto da Veronesi, intanto lo stavo muovendo nell'immagine. Quando Andrissi ha accettato la panchina del Pavia, sapeva che poteva essere una grossa scommessa, sapeva i rischi a cui andava incontro. Secondo me il Pavia sta facendo il campionato che ci si poteva attendere. Lanciato tanti giovani, comunque è sempre in corsa per salvarsi. Sanno che devono soffrire fino all'ultimo, ne hanno consapevolezza e ieri poteva anche andare meglio. Forse avrei inserito prima Veronesi, perché Veronesi è un giocatore, anche se è il Veronesi che viene dall'Ecco. Anche se l'Ecco non ha fatto bene, ha avuto tanti infortuni, è un giocatore molto forte a livello fisico. Quindi probabilmente poteva essere inserito prima nel tentativo di recuperare, ma è solo un piccolo neo. Entrato al tredicesimo del secondo tempo, poi le gole della bandiera l'ha siglato proprio al finale, il quarantacinquesimo. Però c'è un dato Stefano, in questo girone A c'è un dato poco confortante per queste squadre come il Pavia, perché ieri sia Pavia che il Pergocrema e come abbiamo detto il Monza, hanno fatto delle buone prestazioni sul campo e hanno perso tutte e tre. Quindi non è un buon segnale. No, non sto dicendo un buon segnale, però quando fai delle buone prestazioni ti fa punti. Non è in crisi invece il Como, ieri sei andato a vedere questo Como-Spezia, che partita è stata Riccardo? È una prestazione che mi ha, devo dire, molto deluso lo Spezia. Molto deluso perché, visti gli ultimi risultati dello Spezia, l'avevo rimesso e visti gli acquisti fatti a gennaio, l'avevo messa assieme alla Cremonese e avevo messo anche il Verona nelle possibili grandi che rientravano nel giro delle grandi. Nei giochi play-off. No, nei giochi play-off. La prestazione di ieri mi ha lasciato veramente deluso. Però devo dire che ha fatto una grande prestazione il Como, dal punto di vista, voglio dire, dell'intensità. Una cosa veramente, una grande prestazione e una vittoria meritatissima da parte del Como. Addio play-off per lo Spezia, Besana? Beh sì, certamente. Lo Spezia è proprio la delusione di questa fase del campionato. Perché tutti, quando sono arrivati i Vannucchi, i Saudati, i Fiorillo, eccetera, eccetera, abbiamo indicato nello Spezia una squadra che certamente avrebbe riagganciato i play-off. E invece addirittura deve guardarsi alle spalle. Deve stare molto attenti. Ecco, questa è la situazione che dicevo prima. Il Pavia, prendo il Pavia ad esempio, sa, è consapevole che deve lottare fino all'ultimo e salvarsi. Lo Spezia non ha questa consapevolezza. C'era la presunzione, anche fondata, di poter attingere i play-off. Si trovano invischiate dei play-off. Queste sono le situazioni più rischiose. Deve uno stare molto attenti. Riccardo Guffanti, la sorpresa per quanto riguarda il Girone A per il primo posto è sicuramente il Gubbio. Però non dobbiamo dimenticarci questo Bassano. Bassano, l'abbiamo detto proprio prima. Bassano di Iaconi, zona play-off. Davvero incredibile. No, beh, però perché è incredibile Giancarlo? Incredibile per il nome, per la sua storia? Sì, perché tante volte ci facciamo condizionare dal cosiddetto marchio. No, però è una squadra ben strutturata, con giocatori comunque importanti per la categoria. Cioè, non vinci cinque partite consecutive in questa categoria difficile, non può essere un caso. Non vinci se non sei una squadra quadrata. C'è una proprietà forte alle spalle. Poi dico che fa bene al calcio, perché sono le diete sorprese. Oltre il Gubbio, anche il Bassano, sono le diete sorprese che fanno bene al calcio. Una cosa velocissima, me la lasci dire. Assolutamente. Ecco, è un girone che vediamo un buon calcio. Devo dire che quando vado vedo anche un buon calcio. Vedo tanti giovani che sono stati lanciati quest'anno. Devo dire che poi lo vedremo nel girone B. Spettatori veramente pochissimi, rispetto al girone B. Cioè, il girone A rispetto al girone B. Sì, sì. Allora, sicuramente è una nota dolente anche per quanto riguarda Lumezzane. Una società solida, una società seria. Tanti ottimi risultati nel corso di questa stagione. Hanno rischiato di fare i playoff nella scorsa annata. Quest'anno un Lumezzane sempre in zona tranquilla. Ieri pareggio per 2-2 con la Cremonese. doppietta, ancora una volta, di scaglia arrivato nel mercato. C'è sempre la nebbia Lumezzane, mamma mia. 300 paganti. Allora, Riccardo Guffanti. Stefano, 300 paganti. 300 paganti, infatti lo stavo dicendo. Guffanti, questa Cremonese, tu hai sempre creduto nella Cremonese. Ci hai sempre detto che la Cremonese poteva puntare a un piacere in zona playoff. A meno 5. Ci credo ancora. Perché ha fatto un risultato pieno domenica scorsa. Ieri ha fatto un ottimo, secondo me, risultato contro il Lumezzane. Perché non dimentichiamo mai che vincere il Lumezzane è molto difficile. Ma non per una situazione ambientale. Perché si va a giocare con una squadra che la sua prima forza è proprio l'organizzazione di gioco. Quindi, chi riesce a fare il risultato con il Lumezzane, e in questo caso la Cremonese, è sulla strada buona. E delle squadre che ho detto prima, delle grandi, Spezia che ha un po' deluso, il Verona che ha deluso, la Cremonese potrebbe essere la squadra, la Reggiana che secondo me ha in parte deluso, la Cremonese è una delle grandi che può ritornare. Se tu continui a prendere nella Cremonese, io continuo ad essere un pochino più scettico. Ognuno ha la sua idea. Ma il mio non è un auspicio, attenzione. Se dovessi fare un auspicio, esprimerlo per la simpatia che ho per Cremona, mi ricordo tante belle pagine, sarei pro. Però oggettivamente rimango un po' dubbioso, circa la possibilità di recuperare i 5 punti. Quindi, secondo te la zona playoff si chiude alla Reggiana, quota 32? Secondo me sì, perché come ho detto l'altra volta scorsa, questa Cremonese, che è di qualità, perché adesso Sparetto, Scaglia, questa Cremonese non riesce a trovare continuità. E 5 punti da recuperare sono tanti. Sono tanti in questa. Sì, per me sì. Allora, andiamo a vedere i giovani, caro Riccardo Guffanti. Uno ce l'ha anticipato prima, si chiama Montalto. Vediamo se è pronto il cartello grafico. Montalto è cresciuto nel settore giovanile del Messina. Qua al nord, lo ricordiamo, con Alecco. Alecco. E ha fatto veramente molto bene Alecco, tanto è vero che ha fatto muovere tanti osservatori di squadre superiori. Poi purtroppo è stato sfortunato. Dove potrebbe arrivare Montalto? È Montalto un giocatore che io ci punterei, almeno in B. Almeno in B. E poi andiamo a vedere il secondo giocatore che conosciamo leggermente meglio, un po' più noto, ovvero Umberto Eusepi, attaccante del Pavia ex Viareggio, che sta facendo anche le fortune di mister Andrissi. Sì, è un ragazzo, così lo ricordo, cresciuto, ma cresciuto proprio nella Lazio, nel settore giovanile della Lazio, ma poi è passato subito alla Roma. Eccolo. Che tipo di attaccante è? È possente, è un giocatore che fa dalla sua struttura fisica. È un giocatore molto possente. Ha fatto tutte le giovanili, nazionali giovanili. Questo ha giocato tutte le loro presentative. Sì, ha fatto quasi tutte le nazionali giovanili. Quindi, in questo momento, è un 89, va per i 22, no? È un giocatore che, secondo me, ne sentiremo parlare molto presto, ha una categoria anche superiore anche per questo giocatore. Va bene. È un prestito del Genoa, diciamo. È un prestito del Genoa. È cresciuto, voglio dire, nella Lazio, è passato alla Roma, ha fatto una serie di percorsi. Ne ha già girate le squadre. Però è di proprietà del Genoa, e quindi è stato appoggiato dal Genoa a Pavia. Prima è stato a Via Reggio in prestito, adesso è andato qui, a Pavia. Sì, sì, è un buon giocatore questo. Buon giocatore, secondo Giancarlo. Mi ricorda Evacuo, anche fisicamente. Anche un po' la sua storia, Roma, Lazio. Spero sia più fortunato di quanto non sia stato il signor Felice. Tal Felice Evacuo, di Milita nel Benevento, se non erro. Allora, andiamo a vedere a proposito di Benevento, dove tra l'altro c'è stato un po' un mezzo caos, dove il presidente Vigorito avrebbe intenzione di mollare. È stata contestata la figlia allo stadio, dunque lui vorrebbe mollare, ma insomma si sta lavorando, come apprendiamo, anche da tutto Lega Pro, per ricucire lo strappo tra Vigorito e la città, e la piazza Sannita. Andiamo a vedere la classifica del Girone B, con la Nocerina, che ieri non è riuscita a vincere in casa, ma conserva sempre ben 12 punti su Atletico Roma e per l'appunto Benevento. 12 punti sembrano davvero una lunghezza, insomma, difficile da colmare. Poi Juve Stabia, 35. Juve Stabia ieri sconfitta malamente in trasferta dal Foggia. Poi Lanciano, Taranto e Siracusa, 32. Lucchese e Foggia, 31, con il Foggia che si riavvicina alla zona playoff, ora dista soltanto un punto. Pensate, senza i due punti di penalizzazione, il Foggia-Lizeman sarebbe in zona Serie B. Allora, parleremo di Girone B, andremo a vedere anche le immagini di alcune partite, ma anche se riusciremo un'intervista fatta ieri ad un ex Big, uno che giocava in nazionale, che è finito a giocare in Serie C. Perché vedremo questa intervista? Perché questo personaggio importante ci racconterà il dramma che vivono in questo momento alcune famiglie dei giocatori di Lega Pro. A tra poco.